Assolto dal Tribunale monocratico di Trapani l'ex sindaco di Alcamo Sebastiano Bonventre dall'accusa di diffamazione in danno del proprio avversario elettorale Nicolo Solina. Bonventre fu querelato per alcune espressioni utilizzate durante il comizio di chiusura della campagna elettorale. Condannato in primo grado dal giudice di pace di Alcamo, è stato assolto in appello all'esito della riapertura dell'istruzione dibattimentale con la formula «Perché il fatto non costituisce reato». Ovviamente stiamo aspettando ancora le motivazioni, il giudice ha preso 90 giorni per il deposito, ieri è stata la discussione finale, il dispositivo della sentenza. Questa formula dà contezza di quello che noi abbiamo sempre rivendicato sin dal primo grado, cioè che quelle espressioni che sono innegabili sono veramente state dette e sono agli atti. Noi abbiamo prodotto anche il video integrale dell'intero comizio di quella sera. Quelle frasi non avevano nessuna valenza diffamatoria, ma si è trattato sicuramente di diritto di critica politica. Nell'ambito di una campagna elettorale, che ricordiamo ancora oggi tutti, dai toni molto accesi, aspri, esasperati, che ha quasi sconfinato nell'odio. Alcuni oratori quella sera parlarono proprio di questo. E proprio da quel video si evince che, pochi minuti prima dell'intervento di Sebastiano Bonmentre, qualcuno sui canali internet che venivano utilizzati durante quella campagna elettorale, aveva affermato che era la verità, che chi aveva votato per Sebastiano Bonmentre o per il suo schieramento politico aveva votato per la mafia, erano mafiosi e corrotti. Bonmentre ne parlò quella sera durante il comizio, in una condizione di evidente esasperazione proprio per quei toni. Cinque anni di processo, abbiamo avuto un primo grado dinanzi al giudice di pace di Alcamo molto intenso perché abbiamo sentito moltissimi testimoni sia del pubblico ministero, della parte civile e anche della difesa. L'esame dell'imputato abbiamo fatto una lunga attività. In primo grado non abbiamo ottenuto la sentenza sperata, l'abbiamo ovviamente rispettata quella sentenza, ma doverosamente impugnata. In appello, dopo una riapertura di istruzione dibattimentale, abbiamo potuto chiarire quei buchi che erano rimasti in qualche modo nella sentenza di primo grado e abbiamo anche rinvenuto preziosi documenti che purtroppo all'epoca non avevamo e abbiamo chiesto di poterli produrli e sono stati acquisiti nel fascicolo del dibattimento e sicuramente utilizzati per l'esito che abbiamo ieri appreso per la sentenza. Al ballottaggio, Nicolo Solina perse con una manciata di voti e partì immediato il ricorso al TAR e poi al CGA per il riconteggio delle schede, mentre in parallelo la magistratura indagava sui possibili casi di voti di scambio che inquinarono le elezioni. Bonventre, che sconfisse Solina per soli 39 voti, nel riconteggio avrebbe guadagnato altre 18 preferenze, portando a 57 il suo vantaggio. Bonventre rimane tutt'oggi il sindaco dimissionario, finito alla ribalta a causa di vicende che destarono i suoi equilibri come professionista e primo cittadino. Oggi invece è la chiusura di uno dei tanti capitoli che legano a quella città, Alcamo, per qualche tempo da lui amministrata.